buon pomeriggio ragazzi sono sarah shan e oggi siamo tornati in nuovo gameplay di nintendo x per il vecchio nintendo ds del 2005 la versione chihuahua sono stata inattiva per circa due settimane sul canale però ho continuato a giocare praticamente tutti i giorni anche di notte ragazzi di notte ma come volete aver visto dal titolo mi sono arresa mi sono arresa in che senso sono stata quasi due mesi a cercare quel dannato cappello da pompiere per sbloccare la razza d'almata e non l'ho trovato non l'ho trovato nonostante abbia fatto infinite passeggiate sono stata anche fino alle 3 del mattino a passeggiare a star dietro ai cuccioli da mangiare da bere lavarli spazzolarli niente ragazzi non c'è stato modo e quindi alla fine ho detto basta non ce la faccio più mi arrendo a malincuore perché ragazzi veramente ci tenevo tantissimo non tanto tantissimo a trovare il cappello da pompiere durante la passeggiata ma dopo quasi due mesi io ragazzi veramente non ne potevo più e ho deciso di scambiarmelo grazie alla versione bassotto quella con riley sanni e hendy me lo sono scambiato e così facendo ho sbloccato l'ultima razza che mi rimaneva da sbloccare ovvero il dalmata oggi è il 28 marzo 2020 e ho acquistato gli ultimi cuccioli che mi rimanevano adesso otto cuccioli totali quindi tutti i posti sono occupati e non so se questo sarà l'ultimo episodio o l'ultimo o il penultimo comunque come potete vedere gli ultimi tre cuccioli in questa versione sono un jack russell di nome otis un maschio una femmina di dalmata di nome nina e oh mio dio per chi mi conosce sa bene che questo è un giorno memorabile ma sì sì la risposta è definitivamente sì ho preso uno shih tzu su nintendogs che cosa è successo incredibile voi tutti che mi seguite da anni sapete quanto io odio alla morte questa razza lo shih tzu nella vita reale soprattutto penso sia il cane più brutto sulla faccia del pianeta terra io mi scuso tantissimo con le persone che a casa hanno uno shih tzu e i gusti chiaramente ragazzi sono soggettivi io adoro il seberanaski alcune persone lo odiano così come passore tedesco shiba eccetera alcune persone vedono lo shiba dicono mio dio che cane è sembra un volpino ma non lo è bleh schifo no le razze cinesi che poi è giapponese ma tutti dicono che è cinese perché vabbè l'ignoranza del classico tipico italiano medio è conosciutissima quindi le robe giapponesi sono cinesi non si sa come i gusti appunto sono soggettivi quindi io purtroppo purtroppo per voi chiamate lo shih tzu io lo odio ma nonostante ciò ho deciso di prenderne uno nintendogs perché in questo nintendogs qui effettivamente penso che lo shih tzu non sia così schifoso ecco penso sia accettabile come razza inoltre è comunque appunto una razza che non ho mai preso essendo un cane che a me non piace assolutamente però volevo provarlo e dai non sembra malissimo è carino è abbastanza carino ho preso una femmina l'ho chiamata wala wala è un nome tibetano io non lo sapevo ragazzi ma lo shih tzu è un cane tibetano comunque questo nome l'ho preso da un film slash anime cartone di nome the tibetan dog o tibetaninu monogatari vabbè dove c'è questo cagnolino tibetano che però non è uno shih tzu ma è uno spenial tibetano di nome wala siccome è un personaggio che a me piace tanto del cartone animato ho deciso di chiamarla wala soltanto che nell'anime è un maschio mentre la mia è una femmina comunque sia sia wala che nina non hanno praticamente niente perché li ho presi oggi gli ho dato da mangiare da bere dato il nome poi ho spento il gioco infatti vedete non hanno i comandi non hanno le gare non hanno niente nada zero mentre otis l'ho preso tre quattro giorni fa lui già il tempo insieme è un po superiore sa fare tutti i comandi basilari anche se non ha fatto grandi gare nemmeno lui ha vinto la grande campione della prova di agility e principianti della prova del disco e della prova di obbedienza oggi non ho praticamente fatto niente ho provato a fare altre passeggiate per provare per trovare il cappello da pompiere non l'ho trovato e quindi me lo sono scambiato rettamente quindi gli altri cuccioli ho messi all'albergo non so se ci avete fatto caso ma io in questa versione ho tutti e sottolineo tutti otto cuccioli con nomi da quattro lettere è una cosa voluta allora inizialmente no cioè io non pensavo che i primi cuccioli sarebbero stati con quattro lettere però visto che arrivata al quarto cucciolo ovvero lì lì no yuki è il quarto lì la quinta avevano tutti quattro lettere ho detto vabbè ormai finisco il gioco con con tutti i nomi così da quattro lettere comunque soldi ho 158 297 euro 52 centesimi info avevo detto che sarei arrivata a 50 mila punti in realtà li ho superati sono a 62 591 e con il cappello da pompiere che mi sono scambiata io in questa versione chihuahua ho sbloccato tutte le cose sbloccabili in questa versione quindi gli oggetti accessori giocattoli qualsiasi cosa adesso ce l'ho tutti tranne le cose esclusive della versione bassotto e labrador che non ho potuto scambiarmi tutto perché anche nelle altre versioni la versione con shannon e la versione con riley comunque sia non ce l'ho doppie e quindi mi sono potuta scambiare soltanto le cose che avevo doppie però se io facessi altre mille passeggiate in questa versione qualsiasi cosa trovassi non sarebbe niente che già non ho perché ho tutto ho sbloccato veramente tutte le cose sbloccabili volevo evitare di mi sono trasferita al salvagente tutte le cosine delle altre versioni gli oggetti esclusivi delle altre versioni però appunto come ho già detto soltanto quello che avevo doppio scorro molto veloce ragazzi tanto sono sempre solite cose lo sapete per chi mi segue ormai da diverso tempo lo sapete benissimo mancava questo maledetto questo maledetto sono trasferito per veramente ragazzi io ci stavo perdendo il cervello mi sono scambiata vedete l'orologio da parete l'orologio compatto e ho trovato le ultime cose che mi mancavano da trovare queste le ho proprio trovate non me le sono scambiate ovviamente vabbè altri due jack rasseltere e poi ho trovato finalmente l'ingotto d'oro me l'ha portato aeri ieri o l'altro ieri danno il fidanzamento sempre ari e l'alieno sempre ari cioè ari mi ha trovato queste tre cose fantastica però non mi ha trovato il cappolo da pompiere maledetta però vabbè dai pazienza ups sorry sorry not sorry damoni da mangiare da bere a queste povere creature e io veramente penso di aver trascorso in questo nintendox il maggior numero di tempo che non ho mai giocato così tanto a un nintendox non c'è per quanto negli anni ci sia stata veramente tanto dietro a questo gioco perché mi è sempre piaciuto e ci ho sempre giocato ore 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 non mi sono mai impegnata così tanto nell'allenare cuccioli nel fargli vincere tutte le competizioni cioè ho veramente dato l'anima per questa versione specialmente perché la chihuahua è stata la prima versione di nintendox che ho comprato quando ero piccola quando uscì il gioco è stata proprio la prima versione il primo gioco per ds che ho avuto nel 2005 quindi ci tenevo ci tenevo per nostalgia e per amore per questo gioco che è stata la mia infanzia però io ragazzi io veramente non ce la facevo più e essendo appunto che ho sbloccato tutte le razze ho sbloccato tutti gli oggetti accessori ho tantissimi soldi ho sbloccato tutti gli arredamenti ho tutti e otto i cuccioli ho tutto io insomma onestamente non ho neanche più voglia di perdere tempo ad allenarli per esempio nell'obbedienza ecco posso allenare per l'agility l'agility non è complicata però disco e obbedienza sono sì sono abbastanza palla al piede come come cosa io onestamente dopo quasi due mesi di gioco interrotto ogni giorno non ce la faccio più allora intanto insegniamo i comandi a nina e wala se ce la facciamo sono già nove minuti guala 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 se ci riesce perché la cosa brutta di questo vecchio nintendogs è che i cani venivano a interromperti si down si down mi chiedo scusa se si vede la mia mano sopra si down perfetto comunque ragazzi siamo in quarantena ma io non ho un momento di pace e silenzio in questa casa perché essendoci anche i miei e loro parlano di genere nel senso in casa mia purtroppo le persone quando parlano urlano per parlarsi anche se sono un metro di distanza è un vizio che abbiamo di famiglia è una cosa che io tra l'altro non sopporto ma che purtroppo anch'io faccio per è un bruttissimo vizio e quindi ho tempo solo ora di fare questo video perché mia madre è andata al supermercato quindi c'è la fila a fare la spesa mio padre è fuori però ho sentito adesso la macchina della mamma che è tornata e quindi cioè io spero di non essere interrotta durante questo video ma non ho intenzione di rifarlo siamo a 11 minuti non ho voglia se verrò interrotta se taglierò il video perché vengo interrotta ragazzi io non so che cosa farci cioè no è già la seconda volta che sto registrando cioè mi metto 5 minuti a registrare non mi chiamano mai mi metto 5 minuti a fare una cosa a fare un video a registrare mi chiamano cioè che caspita però sit down è odiosa sta cosa cioè sì siamo in quarantena sì abbiamo tanto tempo libero però se ci sono i genitori in casa saprete meglio di me che è infattibile cioè come volevo dimostrare ragazzi ho dovuto stoppare il video perché mi hanno chiamato strano vero comunque invece di insegnare i comandi ai cuccioli facciamo una passeggiatina con Otis e lo andiamo ad addestrare un pochino ma proprio pochino tipo un paio di minuti al parchetto eccoci non so giocare non so giocare non so non so fare niente dai cribio e come avete sentito come riuscirete benissimo a capire dal mio suono di voce sono stressata come tutti noi ovviamente per questa cosa della quarantena ma non per la quarantena sì vabbè un po' anche per la quarantena in sé perché comunque per quanto io stessi già a casa per conto mio da sempre comunque mi scoccia non poter nemmeno fare una passeggiata vicino casa per giocare a pokemon per insomma per sgranchirmi le gambe sono fortunata ad avere il giardino però comunque non è la stessa cosa che fare una passeggiata fuori da casa tua quindi è ovvio che stando sempre chiusi in casa si è stressatissimi però ecco io sono stressata più che per stare in casa sono stressata per il fatto che in casa come ci sono i miei genitori 24 ore su 24 e io veramente sono impossibilitata a fare le cose che voglio fare tipo i video ho detto vabbè quarantena non posso neanche andare a portare curriculum o fare chissà cosa quindi ne approfitto e faccio più video possibili tra l'altro mi sono messa anche in pausa nel canale di Animash ho detto ragazzi per un po' di tempo almeno fino a metà aprile non farò video con gli Animash perché voglio voglio focalizzarmi più sul giocare a altri giochi voglio pensare un po' di più al mio canale di gameplay eccetera invece sono due settimane che non carico video cioè è oggi è sì cioè sto facendo sto video oggi però erano due settimane che non caricavo video perché? perché appunto essendoci i miei genitori in casa io posso farli video in realtà nessuno me lo impedisce ma io stessa non voglio farli se si sentono voci in sottofondo se vengo interrotta come mi stavo dicendo i miei genitori così come io nella mia famiglia in generale abbiamo il brutto vizio di urlarci in faccia quando parliamo abbiamo questa bruttissima abitudine e non ci tengo a portare le sceneggiate napoletane nel video quindi quindi non registro direttamente perché insomma non ci tengo ecco a far sentire la mia famiglia che come al solito per dire cosa si mangia stasera urlano da una stanza all'altra e poi sclerano perché c'è il pollo arrosto e magari voleva mangiare la bistecca e no 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 grazie non ci tengo vabbè Otis facciamo l'ultimo lancio con Otis e poi andiamo a casa perché se non sbaglio l'altra la prima parte del video durava già sugli undici minuti e non voglio farlo durare troppo madonna delle rose perché sputacchio sulle cose blè ultimo ultimo no ecco magari uno più lunghino ok no basta andiamo a casa andiamo a casa Otis Otis andiamo spazzatura che gioia beh tanto qualsiasi cosa mi trovassero adesso ce l'ho quindi potrebbe trovarmi qualsiasi cosa non farebbe molta differenza ciao bubi questo cane si chiama bubi ok mentre ci avviamo a casa con Otis mi scuso per appunto il video un po' caotico e per non aver fatto vedere chissà che cosa però ragazzi cos'altro posso farvi vedere ripeto non so se sarà l'ultimo video o meno comunque sia beh sono contenta che abbiate seguito questa serie per chi l'ha seguita io direi di fermare il video qui perché saremo sicuramente più di 15 minuti o manca veramente poco ai 15 minuti io vi ringrazio per aver visto questo video per aver visto la serie spero che mi seguiate ancora in altre serie vi saluto vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando state a casa grazie ancora ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti